BioCircle è un'azienda attenta all'ambiente che fornisce soluzioni di pulizia e di sgrassaggio ad elevate prestazioni che migliorano la sicurezza degli operatori e delle aziende. Il focus di BioCircle sono tutte le operazioni di manutenzione e riparazione come anche i processi di produzione industriali con l'obiettivo di ottimizzarli in termini di sicurezza ed efficienza riducendo i costi di smaltimento e incrementando la produttività. BioCircle presenta una gamma completa di soluzioni innovative ed ecosostenibili per lo sgrassaggio e la pulizia tra cui rientra il sistema lavapezzi e lavastampi BioCircle. Il sistema BioCircle rimuove oli, lubro refrigeranti, protettivi e grassi che sono eliminati in modo biologico. Lo sgrassante BioCircle quindi non viene mai smaltito ma solo rabboccato. BioCircle è un prodotto non etichettato, senza solventi e si può avere in più versioni per tutte le esigenze. Il sistema lavapezzi BioCircle è robusto, efficace e pratico, è disponibile in diverse versioni manuali e negli esclusivi modelli turbo ed HP in acciaio inox a cestello rotante ed alta pressione che possono essere utilizzati per il lavaggio automatico e manuale. Il sistema BioCircle è la soluzione ottimale per le esigenze di sgrassaggio e pulizia pezzi. Prestazioni elevate e costanti, manutenzione ridotta e forte riduzione dei residui da smaltire garantiscono sicurezza, efficienza e risparmio. Le principali applicazioni sono pulizia pezzi manuale, pulizia particolari a bordo macchina e prima delle misurazioni in sala metrologica, lavaggio stampi e matrici, lavaggio utensili in attrezzeria e sgrassaggi manutentivi in genere. BioCircle, soluzioni di sgrassaggio e pulizia efficienti, con la vostra sicurezza al centro.